Amici sportivi dal tutto il calcio siciliano curato da Federico Ragonia, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di oggi. Questa volta parliamo di Serie C, in particolare del Avellino Calcio che nelle ultime ore, soprattutto negli ultimi giorni, ha fatto parlare di sé. Parliamo di Avellino, dopo di aver vinto il campionato di Serie D 2018-2019, nelle ultimi giorni la società è entrata in crisi. Tanto da parlare, una società nuova fatta da zero che ha vinto il campionato dovrebbe partecipare al Serie C il prossimo anno, cioè quest'anno. Diciamo che l'Avellino è in crisi economica e non solo, ovviamente nelle ultime giorni il Presidente sembra che abbia consegnato la società al sindaco di Avellino. Ancora in quella di Avellino non si sa chi sarà l'allenatore, non si sa chi sarà il direttore sportivo. Diciamo che è un caos totale quello che si respira di Avellino. Ovviamente ci auguriamo che si possa Avellino continuare questa sua avventura dopo appena un anno di vita. L'Avellino Calcio, nelle ultime ore, diciamo, ci sono uscite anche delle notizie con una nota stampa della società che cerchiamo di darla in adesso, diciamo che le difficoltà che sta avendo il Presidente della società Campania. Nelle ultime ore, proprio ieri, è uscito un articolo sull'Avellino che vi andiamo a leggere. L'Avellino rischia di restare fuori dalla Serie C, di registrare un nuovo fallimento dopo un anno dal ripartire dai dilettanti. È una situazione sconfortante quella dell'Avellino. Tanti gli appelli dell'impenditore di Enrico Vezuosi, da Giovanni Lobardi, in particolare Moto, per cercare una soluzione Vezuosi non ha accorto l'invito, almeno per ora, mentre Giovanni Lobardi al momento non ha avuto alcun contatto con la città e l'agenzia, l'ex Presidente della Casettana. ha avuto anche un'esperienza con Vigor Riato a Benevento, conquistando la Serie A, potrebbe affiancare da motivi affettivi, considerando che non ci sono però confemme, anche perché Giovanni Lobardi aveva in passato una trattativa con Taccone, ma non se ne ha fatto nulla. Nelle ultime sue parole, prima ancora De Cesare, venisse allo scoperto di, annunciando l'arresa di una settimana fa, mi auguro che l'Avellino torni vesto in Serie B, la situazione in queste ore però per il club appare grammatica da parte di sua. Enrico Pezzuosi ha fatto sapere in via ufficiale che non è interessato a rilevare la sovietà. Sono cavolate, l'Avellino è la città in cui sono nato e ci possono essere collaborazioni tra i due club, però come è stato nulla di più, anche perché il regolamento evitano di persedere le due squadre. Diciamo che la situazione a Di Avellino non è tragica in questo momento, però ovviamente ovviamente la società ci auguriamo che possa continuare la sua avventura in SRC. Altra notizia di oggi, l'Avellino Calcio di Agostino interessato al Avellino ma aspetta il 12, quindi nel mezzo del caos l'imprenditore politico Angelo Agostino conferma l'interesse per la probabile acquistazione dell'Avellino Calcio. D'Agostino è uscito allo scoperto mettendo in evidenza però alcune condizioni non ho mai escluso i voti di prendere l'Avellino ma bisogna aspettare che si risolvano i vari fegrenti per capire cosa vogliono fare, dice sempre Agostino, bisogna aspettare qualche altro giorno. Dunque queste erano le notizie dedicate al Avellino. Vi invito a iscrivervi al canale di Youtube e soprattutto attivare la campanella perché nei prossimi giorni quando abbiamo notizie di altre squadre e non solo vi aggiorneremo su quello che succederà perché noi siamo lo sport e vogliamo aggiornarvi di tutto quello che accadrà nel calcio che conta.